Come faccio a fare una fotografia che sia tutta a fuoco, ovvero dove i piani siano ugualmente nitidi, sia che si trovino vicini, sia che si trovino lontani dal mio punto di messa a fuoco? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi parliamo di fotografia, in particolare vi presento una tecnica che qualcuno già conoscerà, ci sono diversi tutorial che già ne parlano su YouTube, a me è stata richiesta da un iscritto, per cui vado a realizzare questo video che avevo già intenzione di fare sul focus stacking. È appunto una tecnica che ci consente di realizzare una fotografia che sia completamente a fuoco, ovvero riusciamo a mantenere a fuoco sia le cose che sono molto vicine, sia le cose che sono molto lontane. Prima di cominciare vi ricordo che se argomenti come questi per sviluppare la vostra tecnica fotografica sono per voi all'ordine del giorno, la cosa migliore che potete regalarvi oggi è l'iscrizione a questo canale, il bottone qui sotto è completamente gratis, attivate anche la campanella così non vi perdete le notifiche e lasciate anche un like a questo video, perché entro la fine avrete imparato qualcosa di essenziale per migliorare le vostre fotografie di paesaggio e di still life. Per farvi capire meglio di che cosa sto parlando vi farò un esempio. Vedete che nel momento in cui metto questo tappo del mio obiettivo davanti alla mia faccia, quello che succede è che la fotocamera mette automaticamente a fuoco il tappo, e questo significa che io qui dietro rimango un pelino più sfocato. Più io mi avvicino e più questo effetto aumenta, quindi vedete a questo punto che il tappo sarà a fuoco e io dietro sarò molto sfocato. Se io porto il tappo sul mio stesso piano di messa a fuoco, a questo punto siamo a fuoco sia io che il tappo. Se io allontano il tappo, probabilmente andrà un pochino fuori fuoco, ma molto meno rispetto a quando lo porto avanti, perché nel momento in cui il punto di messa a fuoco, e in questo momento il punto di messa a fuoco è qui, nel momento in cui il punto di messa a fuoco è più vicino al nostro sensore, avremo uno sfocato molto maggiore su tutto quello che viene dopo il nostro punto di messa a fuoco. Ora cominciamo a capire come mai e quando il nostro sfondo, o il nostro primo piano, perché potrebbe essere anche il contrario, risulta sfocato. Nel momento in cui scattiamo con un cellulare, come ben sapete, di solito è tutto a fuoco. Questo dipende dal rapporto tra lente e sensore, ma in questo momento non ci interessa. Diciamo che con il cellulare riusciamo quasi sempre ad avere l'intero fotogramma a fuoco, ma non ci riusciamo quasi mai quando utilizziamo una strumentazione progredita. Perché non ci riusciamo mai? Per via del rapporto tra le dimensioni del sensore e la lunghezza focale effettiva della lente che stiamo utilizzando. Ora, tenete a mente che maggiore è la lunghezza focale e minore è la profondità di campo. Questo significa che se stiamo scattando con un grand'angolo avremo quasi tutto a fuoco, mentre se stiamo scattando con un teleobiettivo la porzione di profondità di campo, ovvero la porzione dell'immagine che rimane a fuoco, sarà molto minore. Un altro elemento che interferisce con la nostra profondità di campo è l'apertura. Ora, è vero che con una grande apertura riusciamo a far entrare più luce nel nostro obiettivo, ma è vero anche che più luce facciamo entrare, più la profondità di campo sarà ristretta. Ora, parlando di focus stacking, noi vogliamo mantenere tutta la nostra immagine a fuoco, quindi ci verrebbe spontaneo pensare che la cosa migliore da fare sia di chiudere il nostro diaframma, ma non possiamo chiuderlo completamente. Perché nel momento in cui chiudiamo a f8, f9, abbiamo il nostro sweet spot, ovvero l'immagine è molto nitida. Per lo meno nel punto dove abbiamo messo a fuoco. Ma davanti e dietro potrebbe non essere sufficiente. E allora che cosa succede? Andiamo a chiudere maggiormente, ma se superiamo f13, f16, incorriamo nel fenomeno della diffrazione. Quindi che cosa succede? Che la nostra immagine perde di nitidezza, e quindi non stiamo ottenendo quello che vogliamo. Se chiudiamo tutto il diaframma, abbiamo un'immagine che sarà più morbida quasi ovunque, quindi non è quello che vogliamo ottenere. Inoltre avremo una foto molto buia, quindi molto difficile da fare, perché insomma abbiamo chiuso tutto, quindi sarà molto complicato scattare con un diaframma di quel tipo. Ecco che vogliamo provare a sperimentare qualcosa di diverso, ovvero noi continuiamo a scattare a f8, f9 o quello che era, però andiamo a realizzare più fotografie per avere una foto a fuoco di ogni parte della nostra immagine. Torno a farvi l'esempio di prima, l'esempio del tappo. Per realizzare una foto di questo tipo in focus stacking, noi faremmo una foto del nostro tappo, una foto del mio avambraccio e una foto per il mio viso. In questo modo sommando questi tre scatti riusciamo ad avere tutto quanto a fuoco. Se vogliamo fare i fenomeni ne facciamo uno anche per lo sfondo dietro di me. Quindi in questo modo riusciamo ad avere con quattro scatti, tre scatti, quello che è, riusciamo ad avere tutti i piani di questa composizione perfettamente a fuoco. Questi scatti vanno poi a essere sommati in post produzione. Photoshop lo fa automaticamente, non lo fa benissimo. Ci sono altri software sia gratuiti sia a pagamento che lo fanno meglio. Ve ne linko qualcuno in descrizione ma non li approfondisco perché non li utilizzo, io utilizzo solo Photoshop. Dunque riassumendo che cos'è il focus stacking, fondamentalmente io voglio una foto che sia tutta a fuoco dal mio primo piano fino al mio sfondo. Se riesco a farlo semplicemente utilizzando una lente grandangolare, quindi magari sto facendo un interno o un paesaggio, sono a posto, non mi serve il focus stacking. Parimenti se sto facendo un ritratto e magari non mi interessa così tanto che sia a fuoco anche quello che sta davanti al mio soggetto e anche quello che sta dietro, posso fregarmene tranquillamente. In realtà questa è una tecnica che per fortuna, dico per fortuna, serve molto poco. Vi dico nello specifico secondo me quando è che può servire una tecnica come questa. I casi che io ho riscontrato sono solamente due. Il primo è quando vogliamo fare un paesaggio o comunque una visuale ampia, però con un punto di messa a fuoco molto vicino. Vi porto questo esempio che vi faccio vedere. Qui stavo scattando una foglia di cavolo, credo, insomma una pianta strana che mi aveva affascinato. Tenete presente che questa foto è vera, anche se sembra un po' fantasy, perché comunque ho spinto, me ne rendo conto un po' troppo forse con i colori, però questa è veramente la scena che avevo davanti. Ora qui che cosa succede? Io ho messo a fuoco da molto vicino su questa foglia di cavolo, però volevo a fuoco anche i palazzi sullo sfondo. E quindi ho realizzato due o tre scatti, non mi ricordo neanche più. Ho realizzato uno scatto mettendo a fuoco sulla foglia di cavolo e poi ho realizzato un altro scatto mettendo a fuoco lo sfondo. Unendo lo scatto del primo piano a fuoco con lo scatto dello sfondo a fuoco otteniamo un'immagine che sarebbe impossibile ottenere otticamente perché la mia lente non mi permette di mantenere tutto quanto a fuoco in questo modo. Ora, esiste la teoria dell'iperfocale che stabilisce che noi possiamo arretrare a una determinata distanza in maniera tale da tenere tutto quanto a fuoco. Secondo me è una cosa completamente inutile. Io l'iperfocale non la uso mai, è comodo conoscerla, sapere che c'è, però francamente nel momento in cui io compongo la mia immagine io voglio che il mio frame sia quello. Quindi per me sapere che indietreggiando di n metri posso mantenere tutto a fuoco non serve assolutamente a niente. A me non interessa sapere che indietreggiando potrei avere tutto a fuoco. Io voglio tutto a fuoco in quella posizione. E avere tutto a fuoco in quella posizione spesso e volentieri non si può neanche chiudendo al diaframma minimo della nostra fotocamera. Quindi è letteralmente impossibile. Ecco però che andando a realizzare più scatti e sommandoli in post-produzione riusciamo a realizzare un'immagine che è otticamente impossibile e quindi può risultare appagante per l'occhio. Questo dunque può succedere anche se stiamo utilizzando un grand'angolo anche se come vi ho detto in precedenza il grand'angolo tende a mantenere quasi tutto a fuoco ma il problema è la distanza di messa a fuoco. Nel momento in cui il nostro oggetto è molto vicino all'obiettivo il nostro obiettivo quale che esso sia tenderà a sfocare le cose più lontane. Quindi questo è un problema che abbiamo quando la distanza di messa a fuoco è molto bassa. Un altro caso in cui serve assolutamente il focus stacking è quello che vi porto oggi, l'esempio principe che vi porto oggi è quando stiamo facendo still life su oggetti piccoli quindi still life macro per esempio ma anche still life normale perché comunque nel momento in cui scattiamo un oggetto con un 85 mm con un 100 mm probabilmente con una lunghezza focale come quella a una distanza come quella a cui siamo che è abbastanza ridotta se stiamo fotografando un oggetto più piccolo di una bottiglia nel mio caso io vi porterò l'esempio di un orologio se stiamo fotografando per l'appunto un orologio anche se impostiamo f10 non riusciremo a mantenere tutto il nostro soggetto a fuoco ecco quindi che vogliamo realizzare una serie di scatti realizziamo uno scatto per il frontale dell'orologio dopodiché realizziamo una serie di scatti in maniera tale da fare a fette il nostro soggetto e quindi avremo una fotografia per le parti più vicine un'altra fotografia per le parti intermedie un'altra fotografia per l'ultimo pezzo del nostro soggetto ovviamente è utopistico riuscirci solamente con tre scatti dobbiamo essere noi a valutare guardando in camera in base a quanto è profondo il nostro soggetto dobbiamo andare a valutare quanti scatti ci servono per averlo tutto a fuoco ovviamente è una cosa che si impara con l'esperienza la cosa che vi consiglio se sono i primi tentativi è di farne più del necessario per cui fate la prima foto dopodiché andate a variare la messa a fuoco di pochissimo e fate un'altra foto dopodiché continuate a muovervi di piccoli step regolari ma molto molto soft in maniera tale da avere più foto del necessario in questo modo quando le andate a sommare non avrete nessuna parte del vostro soggetto che rimane sfocata ovviamente più foto fate più sarà difficile produrle e lavorarle perché il computer farà fatica a sommarle però il risultato dovrebbe essere molto appagante nel momento in cui avete eseguito tutti gli step alla perfezione perché avremo il nostro soggetto che in ogni sua parte presenta delle caratteristiche di massima nitidezza perché abbiamo scattato nello sweet spot della nostra lente e abbiamo sommato solamente le parti a fuoco quindi abbiamo costruito un soggetto che otticamente non sarebbe stato possibile riprodurre ora va anche detta una cosa nel momento in cui andiamo a sommare le nostre immagini se lo facciamo con dei software dedicati che servono apposta per fare focus stacking probabilmente otteniamo degli ottimi risultati quando lo facciamo con photoshop e io lo faccio con photoshop perché semplicemente non mi va ad installare componenti aggiuntivi ho avuto bruttissime esperienze in passato quindi non lo faccio voi potete ovviamente provarci è una cosa assolutamente lecita nel momento in cui lo vado a fare con photoshop avremo quasi certamente degli artefatti perché photoshop ci prova fa quasi tutto giusto però ancora non è perfetto non è pensato per fare quello fa centomila cose photoshop ma non è così bravo a fare questa cosa perché non è il suo punto forte non è il suo focus questo per cui ecco che avremo degli artefatti avremo delle aree magari di sovrapposizione io ho notato per esempio che nel momento in cui scatto un orologio abbiamo la lancetta dei secondi magari che si muove e io vado a scattare quando è esattamente dove voglio io nel momento in cui faccio focus stacking magari mi interessa la lancetta in una certa posizione il resto dell'orologio lo vado a comporre con altre foto ecco che photoshop va a prendermi dei pezzettini di lancetta che stavano in altre posizioni quindi magari devo andare a rifinire le maschere per andare a tirare fuori quelli che sono i dettagli che voglio io intendiamoci photoshop fa un buon lavoro ci azzecca quasi sempre diciamo che ci sono delle aree dove potrebbe esserci qualche problemino per esempio io ho notato che in certe aree vengono fuori delle chiazze una specie di alone perché comunque la selezione che è stata fatta in automatico può presentare delle aree di sovrapposizione dove si vede quasi la trasparenza quindi dobbiamo andare a rifinire queste maschere in maniera tale da essere sicuri di presentare un prodotto di ottima fattura tenete conto che nel momento in cui facciamo focus stacking lo stiamo facendo probabilmente non per gioco lo stiamo facendo per fare un paesaggio con tutto quanto a fuoco e questo può essere un caso ma soprattutto a parer mio lo stiamo facendo per avere uno still life di fattura superiore ecco che nel momento in cui presentiamo uno still life di questo tipo i nostri clienti o il nostro committente lo guarderà a 100% perché è un lavoro abbastanza di fino e quindi verrà esaminato minuziosamente quindi dobbiamo stare molto attenti a farlo bene questo lavoro nel momento in cui lo facciamo vado ora a farvi un breve sommario di quelle che sono le operazioni di preparazione e di svolgimento di uno shooting con focus stacking allora prima di tutto dobbiamo allestire il nostro set ovviamente è assolutamente impensabile realizzare uno shooting di questo tipo senza un treppiede o comunque senza un supporto estremamente stabile la nostra fotocamera non solo non deve muoversi ma deve essere incredibilmente salda perché noi potremo doverla toccare potremo dover variare il focus è vero infatti che esistono delle fotocamere su cui possiamo impostare il focus stacking quindi la fotocamera andrà a variare la messa a fuoco in automatico ma la maggior parte delle fotocamere in commercio non ce l'ha questa funzione quindi dovremo essere noi ad andare a girare la ghiera di messa a fuoco per cambiare la nostra messa a fuoco per cui la nostra fotocamera deve essere inchiodata su un treppiede stabilissimo oppure messa su un qualcosa di incredibilmente solido in maniera tale che non si muova anche se noi la andiamo a toccare vi lascio ovviamente in descrizione la lista delle cose che ho utilizzato io quindi potete vedere il treppiede che ho usato io e il telecomando che ho usato io per fare gli scatti senza toccare la fotocamera dunque siamo su treppiede sia che stiamo facendo paesaggio sia che stiamo facendo interni sia che stiamo facendo still life siamo comunque su treppiede perché altrimenti non ci riusciamo a questo punto possiamo scegliere se mettere a fuoco prima le cose più vicine o prima le cose più lontane in realtà cambia poco dopodiché cominciamo a realizzare una serie di scatti abbiamo cura di mettere l'esposizione corretta ovviamente scattiamo in manuale perché non devono esserci variazioni di esposizione tra una fotografia e l'altra devono essere assolutamente identiche togliamo anche l'autofocus perché non vogliamo che la fotocamera metta a fuoco da sola vogliamo essere noi a decidere dove mettiamo a fuoco e poi andare a variare di incrementi sempre uguali e costanti però la fotocamera non deve tornare al punto di messa a fuoco originale quindi lavoriamo col fuoco manuale a questo punto assumendo di avere tutto quanto in bolla cominciamo a realizzare un primo scatto poi giriamo la nostra ghiera realizziamo un secondo scatto giriamo la nostra ghiera di nuovo e ne realizziamo un terzo fino a coprire l'intero segmento che ci interessa a questo punto andiamo a importare le nostre immagini all'interno del nostro software di editing quale che sia io utilizzerò photoshop ma si fanno le stesse cose su tutti quanti all'interno del nostro editor andiamo semplicemente a fare la nostra post produzione sulle immagini io vi consiglio di farla sull'elemento più importante del nostro soggetto quindi nel caso di un orologio io vado a post produrre la foto in cui si vede bene il quadrante e il cinturino si adeguerà una volta che ho eseguito le mie modifiche sulla prima foto le copio esattamente identiche su tutte quante le foto della mia sequenza così avremo le stesse impostazioni su tutte quante le foto dopodiché le esporto io ovviamente sto scattando in raw spero che stiate facendo altrettanto esporto tutte le mie immagini quindi abbiamo dei jpeg in questo caso io ve lo dico questo è un lavoro che io ho fatto per me quindi era ludico nel momento in cui lo facciamo per un cliente alto io vi consiglio di esportare in psd perché così andiamo a comprimere meno i file andiamo a mantenere i 14 bit originari invece di comprimere a 8 quindi insomma abbiamo un risultato migliore io non ho reputato di doverlo fare in questo caso perché non me l'ha chiesto nessuno questo lavoro lo faccio per me stesso per avere un'immagine di questo orologio e per farlo vedere a voi quindi è una cosa assolutamente ludica per me non mi interessava la qualità massima sono comunque soddisfatto di quello che ho ottenuto ma se lo fate per un cliente su commissione vi consiglio di esportare psd quando andiamo a fare l'export da camera raw o da lightroom o da qualunque altro programma stiamo utilizzando andiamo a esportare i psd così perdiamo meno qualità ora nel momento in cui abbiamo tutti i nostri file andiamo a selezionarli con questo metodo che vi faccio vedere andiamo a importare tutte le fotografie all'interno di uno stesso progetto una volta che le abbiamo importate andiamo a selezionarle tutte e gli diciamo con questo comando gli diciamo di andare a miscelarle automaticamente in questo modo vedete che Photoshop e vi assicuro che ci mette un po' di tempo io adesso non vi faccio vedere tutta la sequenza vi assicuro che ci mette addirittura qualche secondo forse qualche minuto anche in questo momento sta andando a unire le parti a fuoco della nostra immagine io vi faccio saltare il procedimento andiamo direttamente alla fine e vedete che otteniamo un'immagine che a prima vista si presenta corretta e tutta quanta a fuoco se andiamo a esaminarla da vicino c'è qualche difettuccio quindi come potete vedere noi abbiamo ancora qui tutti i nostri livelli impilati possiamo andare a fare delle selezioni su quelle maschere possiamo andare a migliorarle in maniera tale da mascherare quello che è fuori fuoco e rivelare quello che dovrebbe invece essere a fuoco in questo Photoshop ha qualche difetto perché non riesce sempre a stabilire qual è l'area che ci deve far vedere soprattutto quando c'è una porzione di immagini a fuoco che confina con una porzione fuori fuoco lì c'è sempre un'area un pochettino dubbia dove dobbiamo andare a rifinire un pochino è un lavoro che si fa ci si mette qualche minuto diciamo che il risultato dovrebbe assolutamente essere appagante e valere la candela io ora vi faccio vedere il risultato finito questa è l'immagine terminata ora per darvi un'idea di tempistica per realizzare un'immagine come questa secondo me se siete alla prima esperienza vi partono un paio d'ore perché comunque dovete considerare che c'è da allestire il set da posizionare le luci e se è la prima volta che fotografate un oggetto con delle parti riflettenti non è facile ma non è facile vi dico neanche per me nel senso che ogni oggetto riflettente è diverso bisogna posizionare le luci i pannelli i pezzi di carta eccetera in maniera tale da rendere al meglio il nostro oggetto e bisogna capire di volta in volta che tipo di oggetto è ovviamente se fotografate sempre orologi poi dopo un po' avete capito che ci sono parti che si comportano in un certo modo piuttosto che in un altro e quindi andate via spediti ma la prima volta ci metterete un bel po' di tempo inoltre ci si mette un po' di tempo anche a realizzare gli scatti veri e propri perché tenete conto che soprattutto se è la prima volta voi non sapete di quanto dovete variare la messa a fuoco quando fate focus stacking quindi ripeto il mio consiglio è di farne troppe andate avanti di incrementi molto molto piccoli in maniera tale da farne più di quello che vi servono avrete comunque una nitidezza migliore se date al vostro calcolatore elettronico più immagini da processare quindi non ci state perdendo niente ovviamente capite benissimo che un procedimento di questo tipo è dispendioso sia in termini di tempo sia in termini di immagini di peso che dovete poi stoccare e lavorare e anche il risultato finale avrà comunque bisogno di un po' di lavorazione perché essendo completamente a fuoco i granelli di polvere eventuali imperfezioni saranno tutti da andare a post produrre e bisognerà andare a rendere la nostra immagine perfetta su tutto il fotogramma perché comunque non ci sono aree fuori fuoco prima magari se c'era qualcosa che non ci piaceva lo sfocavamo e così non si vedeva più in questo caso ogni singola porzione dell'immagine necessita della nostra attenzione perché potrebbero esserci chicchi di polvere, graffi, imprecisioni, pelucchi qualsiasi cosa dobbiamo andare a ritoccare perché ovviamente in un'immagine come questa non possiamo permetterci di consegnarla con un chicco di polvere nel posto sbagliato capite bene che con tutte queste immagini che dobbiamo impilare l'utilizzo del treppiede è assolutamente obbligatorio ora è vero che Photoshop ha la funzione a linea automaticamente e quando noi la utilizziamo andrà a provare a far combaciare automaticamente tutti i vari scatti è vero anche che se l'errore è piccolo Photoshop se la cava se l'errore è tanto perché è una sequenza di magari nove scatti la stavamo facendo a mano e quindi sono tutti diversi avremo una percentuale di errore via via maggiore e quindi sarà più difficile far combaciare i pezzi e avremo degli artefatti e non avremo l'immagine perfetta a cui aspiravamo va anche detto che in questa fase è molto importante prendere delle precauzioni per cui per esempio impostare l'autoscatto a due secondi può aiutare perché nel momento in cui andiamo a premere se abbiamo due secondi in cui la fotocamera si stabilizza perché l'abbiamo toccata è meglio nel momento in cui andiamo a mettere a fuoco è ancora meglio se poi utilizziamo il comando remoto in questo modo noi andiamo a mettere a fuoco e magari la camera si sposta un pochino magari balla per due secondi se noi andiamo poi a usare il comando remoto la camera si è fermata e quindi avremo le nostre foto ferme e più o meno in posizione corretta è molto importante cercare di averla quanto più stabile possibile la fotocamera in questo modo avremo meno allineamento da fare e il nostro risultato finale sarà automaticamente migliore bene amici spero di essere riuscito a rendervi l'idea di che cos'è il focus stacking in questo video in cui spero di non essermi dilungato troppo come avete potuto vedere è una tecnica difficile abbastanza professionale bisogna sapere quando usarla perché non serve sempre nella maggior parte dei casi non serve io mi sono trovato due volte in vita mia a doverla utilizzare una volta per fare paesaggio laddove avevo un soggetto in primissimo piano e volevo a fuoco anche lo sfondo e un'altra volta che poi si è ripetuta diverse volte durante degli shooting di still life quindi nel momento in cui scattiamo qualcosa di molto vicino ecco che automaticamente possiamo ricorrere a questa tecnica per avere l'area di messa a fuoco la profondità di campo più estesa all'interno del nostro fotogramma è una cosa che non facciamo sempre è una cosa che facciamo solo in certi contesti solo quando ne vale la pena solamente quando vogliamo un'immagine di un certo tipo è un procedimento dispendioso in termini di tempo e anche di ragionamento perché comunque dobbiamo prendere tutta una serie di precauzioni inoltre dobbiamo avere la strumentazione corretta a questo punto ovviamente se avete domande io vi aspetto nei commenti fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa fatemi sapere se è tutto quanto chiaro se volete delucidazioni su qualche punto vi ricordo anche di iscrivervi al canale così non vi perdete altri interessanti tutorial come questo signori è stato un piacere io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.